Vado con questa Vado con uno che senti materiale si può fare il 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 Oh, no, 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 no. Sì 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 ma non mi colgo il pompa No, 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 no. Sì, ma quanta vita gli ho tolto almeno, cioè avrà 40 di vita. Vabbè, tanto è inizio e con l'arma. Possiamo la perdere. Vabbè, tanto è inizio e con l'arma. 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 All'ultimo secondo. Vabbè, tanto è inizio e con l'arma. No. Vabbè. Vabbè, tanto è inizio e con l'arma. Vabbè. Grazie a tutti. 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 Vai. No. 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 No.